Buon pomeriggio, allora finalmente il Bologna ha ufficializzato l'ingaggio di Santiago Castro, classe 2004, un attaccante del Velez che adesso finalmente è appunto un attaccante del Bologna. Ora vediamo un po' le caratteristiche di questo giocatore che devo dire sono andata a studiarmele e ne ha parecchie, ne ha parecchie, sembra quasi proprio che sia un giocatore completo e un po' alla zigzee. Allora le caratteristiche sono talmente tante che io me le sono scritte perché non voglio assolutamente dimenticare un passaggio. Allora innanzitutto è un attaccante di piede destro, ok, che però ama variare su tutto il fronte dell'attacco. Inoltre gli piace partecipare ad entrambe le fasi, quindi anche lui un po' alla zigzee è un giocatore che si muove, ok, e lega il gioco. Quindi questo è molto importante. Possiede il senso del gol, direi che questa è la caratteristica principale che volevamo. Calcio potente anche dalla distanza e appunto è abile a legare il gioco. È forte nel gioco aereo e lavora bene spalle alla porta ma anche in attacco verso l'aria di rigore. Quindi entrambe, entrambe diciamo le posizioni, no? E sa anche dare ampiezza e profondità. Inoltre si disimpegna bene anche da esterno offensivo, ok, duellando sempre e contendendo i palloni sporchi. Ora direi che ce ne sono di caratteristiche positive di questo giovanissimo attaccante, quindi noi non vediamo l'ora di vederlo all'opera. Ed effettivamente è un giocatore che ci dà quel respiro, no? Quella sicurezza, ecco, perché insomma sappiamo tutti che Ivanoidon non è un vice-zigze nel senso che sì, lo è stato perché avevamo solo lui. Ma ha un gioco completamente diverso, è un giocatore che rimane fermo in area di rigore, non fa più di tanto. Insomma, non c'entra niente col gioco di Tiago Motta. Mentre Santiago Castro ha tutte quelle caratteristiche che rispecchiano sicuramente il gioco di Tiago Motta, ma rispecchiano anche un po' ciò che fa zigze. Quindi questo è importante perché se appunto si cercava un vice zigze, direi che Santiago Castro riveste tutti i ruoli, diciamo, i movimenti in campo che fa zigze. E quindi siamo tutti contentissimi, ovviamente non vediamo veramente l'ora di vederlo in campo e chissà, insomma, vediamo se questa è una sana competizione, diciamo, fra Castro e zigze. Non penso che tolga niente, perché sappiamo che Tiago Motta non ama le gerarchie, no? Quindi adesso io non credo che di punti in bianco metta, a di là del fatto che Castro comunque deve ambientarsi nella squadra e tutto il resto, ma ecco, non credo che di punti in bianco metta Castro e zigze lo tenga fuori. Però, insomma, sappiamo che Tiago Motta non ama le gerarchie, quindi ci sarà sicuramente una sana competizione, ma soprattutto quello di cui avevamo un po' timore era non avere il sostituto, ok? In caso di bisogno. Non vogliamo parlare ancora di in caso in cui zigze se ne vada, perché, insomma, non ne vogliamo parlare, non ci piace parlarne. Però, insomma, questo è un attaccante che ci piace molto. Quindi, io vi saluto, ci vediamo poi per il Bologna, dopo a commentare il Bologna-Sassuolo, ok? E niente, ci vediamo, vi aspetto sempre qui sul mio canale YouTube, anche per altri contenuti sportivi, non solo Bologna Calcio. Ciao!